Il passato non può e non deve essere dimenticato. Ha esordito con queste parole il sindaco di Peissenberg Emanuela Vanni, cittadina della bassa Baviera tedesca di poco più di 12.000 abitanti, durante la cerimonia in ricordo della strage nazista perpetrata dall'esercito tedesco che il 23 agosto del 1944 sterminò 184 persone, fra donne, vecchi e bambini, alcuni di loro non più che neonati. Mi scuso per non aver saputo, ha detto ancora il primo cittadino Vanni, di chiare origini italiane e suoi nonni provenivano dalla Garfagnana. In visita in questi territori già nello scorso settembre per scambi culturali fra i due paesi è infatti venuta a conoscenza delle atrocità compiute dall'esercito tedesco in occasione di un colloquio con il sindaco di Larciano Antonio Pappalardo. Da qui la decisione, in segno di amicizie e di condanna, di deporre una corona di fiori al monumento ai caduti dell'eccido del Padule di Fucecchio, eretto a Castelmartini in ricordo delle vittime innocenti. Siamo guardati molti film, anche ultimi documentari e noi tedeschi riteniamo che sia una situazione inconcepibile come persone possano fare cose di questo tipo ad altre persone. Un gesto che noi apprezziamo e abbiamo ritenuto di accompagnare e anche di ricambiare con la proposta che farò di deporre una corona ai caduti in Germania durante la guerra. L'eccidio del Padule di Fucecchio fu un crimine commesso da un reparto dell'esercito tedesco il 23 agosto del 44. Nella sentenza del processo di appello dello scorso novembre alla giustizia italiana ha confermato l'ergassolo a due ex nazisti ultra novantenni accusati della strage. La Corte ha invece cancellato la condanna ad un esarcimento milionario stabilito in primo grado a carico della Repubblica Federale di Germania nei confronti dei 32 familiari delle vittime costituiti si parte civile. Una decisione scaturita a seguito della sentenza della Corte Internazionale dell'AIA che ha riconosciuto l'immunità a Berlino per le stragi naziste commesse in Italia.